Ravenna 2016 fa riconti con l'ambiente, siamo in compagnia di Patrizia Ravagli del Rotary Club di Ravenna, Galla Placidia e parliamo di cyber security e quali sono i nuovi pericoli provenienti da internet. Sicuramente è un argomento molto interessante perché oggi siamo circondati da oggetti che sono collegati a internet, siamo collegati spesso in rete, talvolta consapevolmente o inconsapevolmente ci mettiamo poi in rete e le nostre informazioni girano però talvolta siamo non sicuri di quello che facciamo, quindi credo che il contributo di oggi che sarà appunto dato da Umberto Torelli sarà molto importante e permetterà a tutti noi di riflettere e di capire anche quali pericoli corriamo ad esempio con la rete, con questi nuovi malware che insidiano la nostra sicurezza e addirittura a volte si installano nei nostri computer e cartiscono le nostre informazioni e quindi il Rotary Club Ravenna, Galla Placidia è stato molto contento di poter partecipare all'iniziativa Ravenna 2016 e questo quindi ci permette di applicare anche i nostri principi, quindi quelli di contribuire allo sviluppo della società, contribuire a tutto quello che può rendere utile l'intervento nostro come associazione di servizio alla comunità.